Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Molmed. Prima di procedere con l'analisi dell'azienda, come al solito ti ricordo che se vuoi questo file Excel con anche il foglio calcoli che vedi qui in basso a sinistra che lavora i dati e ti indica se i miei parametri vengono rispettati o meno, quindi se secondo le mie statistiche ha senso comprare o meno le azioni della società che stai analizzando, dicevo se vuoi questo file ti lascio il link in descrizione. Tornando all'analisi. Brevissima descrizione, Molmed è una società che si concentra sulla ricerca e sviluppo del settore biotecnologico, poi se vuoi mangiare informazioni ne trovi quante ne vuoi su Google. Andando all'analisi dell'azienda, i dati parlano da soli. Almeno da 5 anni la società non chiude l'anno con utili, in 5 anni ha perso quasi 75 milioni di euro e nonostante il settore non sia così male e lo preferisco molto di più rispetto al settore bancario, nonostante ciò penso che questa società abbia seri problemi e lo si può constatare dall'andamento del prezzo che in quasi 10 anni ha lateralizzato dai 24 ai 70 centesimi. Di conseguenza non consiglierei neanche un prezzo di acquisto di una società del genere. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia, personale. Spero che questo breve video ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda, devi prima condividere questo video e mettere il like. Mettendo il like anche alla pagina, se non l'hai ancora fatto, posso incitarti per quando il video sarà pronto. Dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!